Un gol di Calomino al novantacinquesimo consente al calcio Acri di battere il San Fili e di portarsi al quarto posto in classifica nel girone A di prima categoria. Trovando anche l'opportunità per le sconfitte di Praia Tortora nell'anticipo con il Cassano e del Sant'Agata a Cutro, la squadra cosentina trova l'opportunità di ritornare in condizioni ideali per poter disputare i playoff di questo girone A. Ma alle spalle ovviamente sempre della capolista Bervedere e della Rossanese. Ma come dicevamo i risultati di ieri, cosa che non predevevamo addirittura anche domenica scorsa quando dicevamo che era quasi impossibile poter fare i playoff, invece così non è. Il calcio è bello perché è vario come si dice e adesso oggi proprio con il risultato sul San Fili proprio ottenuto allo scadere all'ultimo secondo della partita consente all'Acri di riportarsi nelle condizioni di poter ancora dire la sua in questo campionato. è stata una partita molto complicata, molto tirata per la squadra di casa che effettivamente ha dovuto sudare le cosiddette proverbiali sette camici per arrivare al risultato pieno.